Come sta andando la stagione estiva a Santa Maria? Sta andando molto bene, ci sono diversi turisti, anche stranieri. E qual è la richiesta principale che vi fanno qui ad esempio alla Casa del Profumo? Ci chiedono qual è l'origine dell'acqua di Colonia, anche se molta gente non sa che è di origine vigezzina, pensano che sia di origine francese, altrimenti escursioni, informazioni varie su tutta la valle. Quindi montagna, eventi, mostre? Soprattutto eventi e mostre qua a Santa Maria. Ci sono turisti abituali, ma anche tanti turisti che vengono per la prima volta? Sì, la maggioranza sono turisti abituali e gente comunque che viene qua da una vita, però c'è molta gente anche di passaggio. Degli stranieri, più che altro, che zone? Gli stranieri ci sono i tedeschi, che sono tutti molto interessati alla Val Grande e alle escursioni in quella zona, perché sono più interessati alle zone più wild. Estate a Santa Maria Maggiore, un bilancio sul mese di luglio, come sono andate le cose come proloco? Come proloco sono andate bene, abbiamo fatto la serata discoteca sotto le stelle, è andata bene, una serata bimbi e animazione in piazza, anche quella era il primo anno ed ha funzionato, sarà poi riproposta il 16 agosto, idem la discoteca sotto le stelle verrà proposta il 23 agosto.